Sta diventando oggetto di discussione della comunità scientifica la presunta attribuzione al divin pittore Raffaello Sanzio di un dipinto del 1504 scoperto all'interno di una collezione privata. Si tratterebbe di un'opera passata di mano da una collezionista inglese a uno francese. Una scoperta annunciata nel weekend al teatro Angel dal Fuoco di Pergola in occasione del convegno La bellezza ideale, la visione di perfezione di Raffaello Sanzia. Si tratta di una maddalena i cui tratti sarebbero riconducibili a Chiara Fancelli, moglie del perugino che fu maestro del genio urbinate. Ad annunciare la scoperta la professoressa Anna-Lisa Di Maria fra i massimi esperti di arte rinascimentale che a Pergola ha anticipato come lo studio a corredo di questa tesi con tanto di analisi spettografiche sarà breve pubblicato nella rivista scientifica Open Science Art & Science col titolo La maddalena di Raffaello ovvero quando l'allievo supera il maestro. Di un ritratto della maddalena esiste una versione del perugino alla Galleria Palatina e un'altra a Villa Borghese attribuita alla sua bottega. Secondo gli autori dello studio la versione di Raffaello sarebbe addirittura precedente. Diversi pareri contrastanti su questa presunta attribuzione a cominciare dal sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi che ha giudicato impossibile che l'opera possa essere di Raffaello anche in virtù del periodo storico in cui si colloca e che al massimo potrebbe trattarsi di una replica del perugino.